Forse una partecipazione così intensa non se l'aspettava ma di sicuro Luca Canonici alla presenza del pubblico abituato visto che nella sua attività professionale il riscontro della gente diventa la variabile del successo. Ad un mese dal voto il candidato sindaco del centro-sinistra Montevarchi si è detto soddisfatto della risposta avuta finora. Noi abbiamo una discreta rappresentanza di tutto il tessuto sociale. L'idea a forza che caratterizza il suo programma? L'idea a forza è quella delle idee cioè quella di portare alla città di Montevarchi le nostre idee i nostri pensieri e di cercare di far essere una Montevarchi migliore. L'obiettivo rimane quello di ridare centralità a Montevarchi che dopo il capoluogo è la città più grande della provincia di Arezzo. Noi abbiamo tante bellissime esperienze lavorative qui in questo bacino che è Montevarchi e il Valdarno stesso. Si tratta di aiutare sia le aziende, i lavoratori, la parte culturale, il turismo. Dobbiamo far un po' quadrato intorno a questa città che deve continuare ad essere quello che è sempre stata e quello che è la sua vocazione. Molto distaccato il giudizio sulla giunta uscente. Cos'è che non mi è piaciuto? Ma la divisione che probabilmente è arrivata in questi cinque anni. Insomma la città è diventata una città un po' opaca, certe problematiche si sono acuite. La distanza fra cittadino e istituzione secondo me si è allargata molto. In piazza ad ascoltarlo vecchi sindaci, ex alleati della TSI e tanta gente che crede nel tenore.